La casalinga la bacia immobiliare che ha patito una sconfitta 4 a 2 contro Genfit stradendo un po' quello che era il diktat d'abbio solito i ragazzi dopo che bravi nell'iniziare bene il campionato qui perdono male palla ed ammassare calza subito dalla gran distanza e sorprende Tordella è immediato il vantaggio della Pisana nemmeno un minuto 1 a 0 subito sul velluto bene la Pisana che controlla le prime battute Carnevali servito da Laurato la palla in verticale è sbagliata il tacco però ed è immediato il raddoppio ed è ancora lui ammassari imbeccato a centro area la mette sotto l'incrocio 2 a 0 contro Kud 272 alla Stella Azzurra invece la gara della Pisana a calcio 8 nella terza ammassari nel frattempo dal nulla un tiro ci mette i guantoni Tordella stavolta grazie a tutti